Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, that's amazing. So amazing. Well, so, you know... So, now it's on, thank you very much. So, I'll see you later. So, during the lecture, we have like just one hour, so I try to go super quick so I can teach you a lot of different things. So, if there are some things that you haven't understand very well, because if I take too much time to explain, you're not going to see much. But I'm here for the whole convention, so you can still come to me, ask questions, so you can still come to me, ask questions. And there will be a workshop, two hours workshop with Osa, which is an anche workshop, with only 10 people max. Con solo 10 persone. Yeah, so you have to come and tell us, me or a gente, if you want to go to the workshop. So, I'll tell you more about the workshop in the end of the lecture. But, mad star with something magical. So, before I tell you a story about me, I'd love you, sir, to tell me stuff anywhere you want. I show you the card, it's not important in the environment, and the story I want to tell you is the story of the Monkey King. E' la storia dei Re Scenia, you know? Conoscete? The Monkey King, in my culture, is a demon, like a car. Le Scenia, in la sua cultura, sono come degli dei, sono divine. That uses... che usano? His hair. Utilizzano i propri peli. To produce magic. Per inventare la loro magia. And just for you, I'm going to do that today. E solo per voi vedete com'è. Passa. One hair. Primo velo, primo capello. Do you have your card in your mind? Alcora, per i guardi la carta? Primo. Ehto me anche. One card. What was the card? Gagata, qu'è te terra? King of... I capali, he capali... I capali, il peiz. Il peiz. Exactamente. E ucce. Esattamente! C'èmere la scoona. The story they say, ma la storia del je... They say, if you use more hair, you can see, potete fare ancora più magia potete fare ancora più magia l'ingeggerà usare più capelli una mano è il caso per quello è il caso per quello è il caso per quello 4 hai un caso per quello o magari si è più magia per questo Grazie.